e si decide qui eh perché poi il corpo libero per entrambe le atlete è una normale routine e sale subito Rebecca Andrade Anjamé con cambio anche per la grande ginasta brasiliana una linea molto bella, possente Anjamé con cambio mezzo giro ritmo, sicurezza andiamo a vedere la parte acrobatica indietro clic smezzato, salto dietro smezzato, nessuna imprecisione ribaltata, senza posa delle mani diretta un salto ad anello molto ampio movimenti laterale per avvicinarsi anche all'estremità Anjamé con cambio ad anello e poi spinta a due piedi, clic smezzato ruota senza ancora con il movimento delle braccia riesce veramente a capire punto di arrivo sulla trave e salire, posizionarsi alla stazione retta con grande precisione originale anche questo contatto con la trave Cosacco Sison Rodata FIFAC anche per lei doppio carpiato di finale l'Andrade si dimostra davvero una ginnasta a tutto tondo ricordiamo che tra l'altro proprio quest'anno